Si avvicina il tempo delle iscrizioni scolastiche per aiutare studenti e famiglie nella scelta delle scuole superiori. Torna Cosa farò da grande? Terza edizione della campagna di orientamento che quest'anno coinvolgerà tutto l'Alto Tevere, da Citerna ad Umbertide. Gli appuntamenti sono di più e più articolati, ha spiegato Mauro Alcherigi, assessore alle politiche scolastiche di Città di Castello. Durante la conferenza stampa a cui hanno partecipato anche i dirigenti del polo liceale Primo il Giovane Eva Bambagiotti, del polo tecnico Franchetti Salviani Valeria Vaccari, del polo professionale Cavallotti Patrizzi Baldelli Anna Maria Benedetti, del liceo economico e sociale delle scienze umane San Francesco di Sales Simone Polchi e della scuola Campus Leonardo da Vinci di Umbertide Franca Burzicotti, oltre all'istituto comprensivo di Umbertide Montone Pietralunga Gabriella Bartocci. All'iniziativa aderisce anche il comune di San Giustino con l'istituto comprensivo Leonardo da Vinci di San Giustino, dove nel Museo del Tabacco sabato 5 dicembre dalle 9 alle 13 si terrà l'ultimo Open Day. L'Open Day è l'incontro contestuale di tutti gli istituti superiori che allestiranno postazioni esplicative dell'offerta formativa, indirizzi e corsi di studi in un unico luogo. Il primo si è svolto sabato scorso presso la palestra della scuola Pascoli di Città di Castello. Il secondo Open Day sarà sabato 28 novembre, sempre dalle 9 alle 13, al Cinema Metropolis di Umbertide, alla quale fase sono state affiancate sedute informative destinate ai docenti che saranno messi nelle condizioni di farsi da tramite per le informazioni nelle classi. Le date sono per Città di Castello, dalle 15.30 alle 18.30 di sabato 12 dicembre, sabato 16 gennaio, sabato 30 gennaio e sabato 13 febbraio. Per Umbertide sabato 19 dicembre, domenica 10 gennaio, sabato 23 gennaio e domenica 7 febbraio. Infine annuncia che rigi a marzo è stato programmato il salone universitario a Palazzo Bufalini che coprirà l'orientamento post diploma e sarà diretto ai ragazzi dell'ultimo anno delle scuole.